Grande successo per il soprano originario di Polla Valentina Mastrangelo al Teatro San Carlo di Napoli nello scorso fine settimana nei panni di Pamina per l'opera Il flauto magico di Mozart. Diretta dal maestro Gabriele Ferro, il soprano è tornata al San Carlo dopo aver debuttato al Verdi di Salerno e alla Macerata Opera Festival, con un gran successo di pubblico e di critica. Essere riconfermata in un teatro di grande prestigio come il San Carlo di Napoli, ha affermato Valentina Mastrangelo, è un grande orgoglio per un cantante lirico. Dopo Musetta nella Bohème di Puccini e Pamina nel flauto magico di Mozart, spero davvero di tornare presto nel mio teatro preferito. Questa produzione del flauto magico al San Carlo era stata cancellata marzo scorso a causa del Covid e ora è stata recuperata, ma purtroppo solo in parte. Sono state infatti tagliate ben sei recite, confermando solo due concerti. Mi reputo privilegiata, ha affermato ancora il soprano, a poter lavorare in questo contesto storico dove i più grandi teatri del mondo chiudono, vengono cancellate intere produzioni e purtroppo il nostro settore sta subendo ingenti danni. Spero davvero che il pubblico ci sostenga, che abbia il coraggio di venire in teatro, anche perché, date le norme di sicurezza, è il luogo più sicuro. Dopo il successo nel suo teatro preferito, Valentina Mastrangelo è già al lavoro per prepararsi per il suo prossimo impegno, che, sperando che non ci siano più cancellazioni causa Covid, sarà al Teatro Comunale di Bologna nel mese di dicembre con la Bohème di Puccini, diretta da Francesco Ivan Ciampa e regia di Gram Vic.